La 43esima edizione, siamo molto contenti di rospitare il Giro del Valdanno, lunedì 6 settembre. Una manifestazione molto importante che l'anno scorso è stata seduta a sospendere per le ovvie ragioni che tutte sappiamo. Quest'anno ripartiamo, ripartiamo anche appunto dal Giro del Valdanno, siamo molto contenti. Ringraziamo il Pedale Fugliese per tutto il lavoro svolto in questi mesi per riorganizzare il Giro stesso. È una manifestazione sportiva molto importante sul territorio, una manifestazione sportiva di carattere nazionale che la gruppa interessa molti atleti che vengono da tutta Italia. Quindi siamo molto contenti di ripartire e di ripartire anche dal Giro del Valdanno. Il circuito prevedrà dei cambiamenti rispetto a quello che è stato il circuito classico. Comunque si prevederà la consonatura, quindi ritrova degli atleti, tutti gli atleti in piazza Marsello Ficino, anche un segno di vicinanza al comune di Affilline e al centro storico in modo tale appunto di avere la presenza degli atleti. Dopodiché avremo il trasferimento in piazza Capanna e in Cisa dove ci sarà la partenza ufficiale.